Il MAN che cresce per numero di visitatori ed aree espositive, ad affermarlo il direttore Paolo Giulierini nel corso di una conferenza stampa per presentare la programmazione 2018-2019. Siamo il primo museo d'Italia ad essere più visitato l'altro giorno, è un grande orgoglio. Se si confronta il mese di gennaio 2017 con il mese di gennaio 2018 abbiamo già uno scarto di 10.000 visitatori in più. Questo significa che il trend continua a crescere e che le grandi mostre e le grandi opere che sono previste non possono che portare ad un risultato che noi riterremo molto importante. Intanto per le domeniche al museo, l'archeologico di Via Furia, Battereggia di Caserta e Pompei, solo il Colosseo e il Nazionale Romano fanno meglio. Voi vedrete fra pochi mesi un museo che accoglierà i visitatori all'insegna dell'eleganza, una nuova forma di comunicazione nei cartelli, nei dascalie, nella tinteggiatura delle sale. E nell'autunno 2018 verranno riaperte le sezioni Preistoria e la sezione Magna Grecia. Tra le nuove mostre in programma c'è Pasqua 2018, le armi dei gladiatori, Pompei e gli Itruschi, Pompei ed Ercolano e nel 2019 sarà la volta di Canova e l'Antico. Quindi dai depositi, dalle mostre e dai servizi vedrete veramente un museo di stampo internazionale.